Crollo del Ponte sul Po del 30 aprile 2009. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi, Andrea Pirola, ha rendiato a giudizio 5 dei 13 dirigenti Anas Indagati. Si tratta di Claudio De Lorenzo, Eugenio Muccilli, Salvatore Larosa, Matteo Castiglioni e Angelo Adamo. Per tutti l'ipotesi di reato è di concorso in crollo e disastro colposo. Il processo si aprirà a Lodi l'8 febbraio 2013. Non luogo a procedere invece per Luigi Pietro Pagliano, Nero Chioini, Maurizio Maurizzi, Carlo Bartoli, Dario De Cesare, Giacinto Mazzucca, Ennio Paolucci e Angelo Landolfa, i quali non avrebbero avuto competenza diretta sulla manutenzione dell'infrastruttura che collegava Piacenza a Saracco al Porto, spezzate in due dal cedimento di una campata. Sono state quindi accolte le tesi del pubblico ministero Gian Paolo Malchionna, che aveva definito insufficienti e inefficaci gli interventi, parlando di negligenze, imperizio e imprudenza da parte di coloro che dovevano garantire la sicurezza strutturale del ponte. La colpa del crollo, secondo la procura lodigiana, è quindi da attribuire alla mancanza di manutenzione. A processo ci sarà anche ANAS, citata in giudizio come responsabile civile. Le parti civili sono invece il comune di Piacenza, il piacentino Antonio Rinaldi, ferito nell'incidente, il comune di San Rocco al Porto e una società che fu costretta a chiudere un negozio nel centro commerciale appena di là dal ponte a causa dell'improvviso calo degli affari.